Applausi In linea con una sfida internazionale, quindi con tutti i fondamentali, come si può dire, a posto eredito un'università che anche oggi è dato prova di essere una comunità, una comunità accademica con le sue regole, con i suoi tempi, con le sue, diciamo, organizzazioni interne, ma soprattutto raccordo una sfida che spero di essere all'attezza di mantenere. Nei prossimi giorni farà la squadra di governo? Questo è il mio primo obiettivo, ho qualche idea sulle aree e sull'identikit delle persone che condivideranno con me questa sfida. Il mio obiettivo è quello di dare all'Ateneo una squadra all'attezza della squadra. Ci sono dei ringraziamenti che vuole fare per questa elezione? Beh, io ringrazio tutta la comunità accademica con tutte le sue componenti, Stefano Paleari perché ha dato una nuova, diciamo, impostazione sia al nostro Ateneo sia all'università italiana e soprattutto finire consentito agli studenti perché il nostro lavoro, il nostro impegno è sempre rivolto agli studenti.